Quasi 90 chilometri interamente nella nostra provincia per collegare 10 comuni. Inaugurato oggi il tratto Lombardo della ciclovia del Sole, una delle maggiori dorsali cicloturistiche europee. Un investimento da quasi 6 milioni di euro, un grande risultato del gioco di squadra di ben 27 enti coinvolti. Una grande soddisfazione, una bella giornata per tanti motivi, un grazie in particolare al Parco del Mincio che si è assunto l'onere, non così scontato, di gestire tutto l'intervento e di realizzare questi quasi 90 chilometri della Lombardi, della ciclovia del Sole, il Parco del Mincio che devo dire ha fatto un ottimo lavoro nei tempi e con le risorse economiche a disposizione, 6 milioni di euro che consegnano a Mantua, ma non solo a Mantua, ai Lombardi, ma non solo ai Lombardi, una ciclovia che collega il Veneto con la Toscana passando per la Lombardia e l'Emilia ma soprattutto ai turisti, ai turisti anche stranieri che ci chiedono sempre più un turismo lento, un cicloturismo diffuso come quello che stiamo organizzando. Quindi la ciclovia del Sole unitamente alla ciclovia Garda e all'Avento mettono la regione Lombardia in cima alle regioni che devo dire hanno investito e che soprattutto hanno realizzato questo tipo di infrastrutture importantissime. Ricordiamoci che possiamo usarle anche tutti i giorni per farci una passeggiata o per passare da un paese all'altro senza l'auto.